La cheffia, la cheffia è un racconto in Elisa Cavalletti è un libro un libro che decore può essere sempre in seta oppure in cotone ognuno sceglie la fibra che più gli piace ma soprattutto quando arriva l'estate anche divertente giocare con una cheffia ecco tu ecco lei l'ha usata per decorare il proprio il proprio vestito da piena estate guarda come diventa sensuale una cheffia che si appoggia delicatamente sul vestito nero wow lei è un pochino più gittana vero ti piace usarla come come decoro per i suoi capelli oppure eccola eccola la terza versione di una seta speciale con rose con cactus oppure semplicemente tanto colore per dare colore a una cosa più silenziosa